Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Nella trasmissione di oggi, che va in onda dai microfoni di Radio Pagana, noi parleremo alcuni aspetti della visione della vita dopo la morte degli antichi egiziani. Prenderemo dei testi religiosi dell'antico Egitto e li commenteremo. Quello che mi interessa far capire in questa trasmissione era che la visione che avevano gli egiziani, la visione degli antichi dell'altro mondo, del mondo dopo la morte del corpo fisico, non era una visione come siamo abituati a considerarla oggi presa dai monoteisti, ma era la visione di una vita che continuava in una forma diversa pur manifestando gli stessi bisogni di espansione e di crescita che ha la vita fisica. Cioè non c'era una descrizione data del mondo antico. Anche quando gli egiziani ci descriveranno i percorsi che deve fare l'anima dopo la morte, cioè l'individuo una volta morto che deve andare nei canneti, che deve muoversi in un certo modo, in realtà è una rappresentazione onirica di quello che è la vita oltre, cioè per riuscire a descrivere la vita oltre la morte con dei tratti comuni con la vita quotidiana. Ma non c'era la visione del dopo morte perché chi riusciva a partorire il corpo luminoso aveva un proseguo e quel proseguo è distinto dalla ragione, non ha relazioni con la ragione, è separato proprio dall'ostige, cioè dall'acqua dell'oblio, per cui la ragione non è in grado di penetrare gli altri mondi proprio perché la ragione è limitata al corpo fisico. Quello però non interessa molto sottolineare degli antichi egiziani è il momento del passaggio, cioè quando avviene la morte del corpo fisico e la nascita del corpo luminoso e l'indipendenza del corpo luminoso. Mi servirò di alcune traduzioni, di alcuni testi trovati proprio all'interno dei sarcofagi egiziani in cui si parla del mondo oltre la morte e lo prendo da testi religiosi dell'antico Egitto, edito da Meridiani, Meridiani Mondadori e la religione dell'Egitto antico attraverso i testi di Edda Bresciani. Il primo pezzo che vado a leggere è il re defunto verdeggia oltre la dea del cielo. O tu dall'ampio passo, mentre semi lo smeraldo, la malachite, la turchese delle stelle, se tu sei verde, è verde il re defunto, verde come una pianta viva. In questa breve esposizione noi abbiamo la rappresentazione dell'uomo morto come una pianta viva, cioè una pianta che nasce. La pianta ha la caratteristica nel mondo della ragione di essere vista dagli animali e dagli esseri umani come qualcosa di fermo, come qualcosa di statico. Mentre invece la pianta che cresce è viva, per cui l'uomo muore, cioè il corpo muore, ma il verde, ciò che viene generato, si proietta nel cielo come la dea del cielo, come Nut. E andiamo ancora avanti. Il re defunto accende al cielo. Ecco, sono venuto. Ecco, sono venuto. Ecco, sono salito. Mi farò il mio pasto di fichi e di vini che sono nel vigneto del Dio. E in questo breve trattato noi abbiamo invece l'esigenza del corpo luminoso che cresce. ormai dice mangio nel giardino del Dio, mangio il pasto degli dèi. È il mio corpo luminoso che cresce, non è più il mio corpo fisico. E questa consolazio, che non è una vera e propria consolazio, è il trionfo, il divenuto dell'individuo che ha attraversato la vita in maniera coraggiosa. Viene premiato, viene premiato i suoi sforzi, viene premiato il suo impegno proprio perché adesso può mangiare il pasto degli dèi, può accedere all'Olimpo. E ancora, il re defunto vola in cielo. Qualcuno vola su da mezzo a voi, o uomini, come fanno le ocche. Egli ha liberato le mani da voi, come fa un falco. Si è allontanato da voi, come fa un nipio. e in questa rappresentazione noi abbiamo l'uscita del corpo luminoso, dal corpo fisico che è morto. E abbiamo un liberarsi, un liberarsi dei legamenti, uno sciogliersi dalle costrizioni. Ciò che per tutta la vita, la vita fisica di un corpo, si è accumulato attraverso tensioni su tensioni, dalla quantità delle tensioni accumulate libera la qualità. E la qualità che viene liberata all'atto del corpo fisico è proprio il corpo luminoso che è stato costruito nelle varie traversie della vita. Passiamo a un altro pezzo ancora. Il re defunto raggiunge il cielo come una locusta. Io non sono per la terra, io sono per il cielo. O tu, mio Dio locale, il mio ca' è accanto a te, perché io sono salito al cielo come un airone. Ho baciato il cielo come un falco, ho raggiunto il cielo come una locusta che nasconde il sole. E anche qui, anche in questo pezzo, abbiamo la visione del distacco, il distacco del corpo luminoso dal corpo fisico che sta morendo. E altre immagini noi le abbiamo proprio come liberazione, liberazione da quelli che sono gli ostacoli attraverso i quali la vita diviene, la vita si trasforma. Altre formule, per esempio, abbiamo alzati e cammina. Tu hai le tue gambe, alzati. Le tue membra sono state radunate per te. Va all'assemblea, laddove sono gli dèi. Essi ti restituiranno i tuoi liquidi, usciti da te, cosa grazie alla quale il tuo cuore non sarà più immobile. Cammina, non sei più inerte. attraversa il cielo e la terra, perché non sei più inerte. Ho questo defunto, beneficiato, nobile e giustificato. Anche in questo pezzo noi abbiamo il senso del corpo luminoso che si muove. Dice, va all'assemblea, laddove sono gli dèi. Cioè, presentati all'assemblea degli dèi perché tu sei un Dio, cioè tu hai la forza per rivendicare il tuo essere Dio davanti degli dèi. E saranno gli dèi a restituirti la tua linfa vitale, la tua capacità di continuare a vivere. Quella capacità di continuare a vivere che nel re defunto a scendere al cielo noi abbiamo letto come farò il mio pasto di ficchi e di vino che sono nel vigneto del Dio. Cioè, in pratica, gli dèi aiutano gli esseri umani, aiutano gli esseri della natura, aiutano le piante e gli animali a arrivare al consesso degli dèi. Cioè, gli aprono le strade dopo che hanno vissuto una vita coraggiosa, dopo che hanno attraversato le loro condizioni di esistenza e abbiano costruito il loro corpo luminoso. Proviamo ancora un altro pezzo ancora. Appello ai quattro figli di oro. Venite a cercare l'osiri defunto che sono io, affinché abbia questo suo pane che hanno raccolto i suoi eredi, i suoi figli che sono ancora sulla terra. Io sono colui che ti glorifica e che offre l'acqua a tot per soddisfarsene. Mangerai del pane di frumento bianco e dell'orzo rosso. Il tuo pane ti è dato e non imputridirà la tua birra, non irrancidirà. Sii contento dell'offerta funeraria. Corri. E anche questo, vediamo che l'uomo, la persona, il defunto, non è una persona che si mette in ginocchio e che prega, ma è una persona che dice io sono osiri, cioè io sono un dio e agisco da dio, cioè agisco come un dio, io sono il dio. Ed è importantissimo questa visione religiosa che hanno gli antichi perché attraverserà tutto l'antico mediterraneo, cioè noi abbiamo avuto la fortuna che nelle piramidi si sono conservati testi religiosi e formule magiche antiche di migliaia di anni. Formule magiche, testi religiosi che hanno attraversato tutta l'antica civiltà minoica, tutto l'arrivo degli ictos, per esempio dei sardi, dei popoli del mare, prima delle loro devastazioni. In pratica è tutta quella che era la cultura religiosa di quel tempo, prima, molto prima, molto prima dell'arrivo del monoteismo, ma molto prima dell'avvento della filosofia. E questi testi religiosi, al di là della forma, al di là della rappresentazione scenica, ci parlano esattamente di qual è la relazione fra il soggetto, fra l'individuo e la vita, e l'individuo e la morte, e l'individuo oltre la morte. E ci rappresentano una visione della vita e della morte che è quella che appartiene al mito, è quella che noi leggiamo in Esiodo, è quella che noi leggiamo negli Ittiti, è quella che noi leggiamo nei Babilonesi, prima dell'avvento dei monoteisti, prima dell'avvento delle varie interpretazioni. E questi testi trovati nelle piramidi, nei piramidi o comunque nei sarcofaghi, ci hanno permesso di ricostruire un modo di essere che era stato dimenticato dalla filosofia greca fino al cristianesimo, ci hanno un po' cancellato quella che è la visione del mito, formula per restituire al defunto la sua testa. La testa mi è stata riattaccata da Shu, il collo mi è stato rimesso a posto da Tefnut. In questo giorno nel quale vengono riattaccate le loro teste agli dei, gli occhi mi sono stati resi, che posso vedere per loro mezzo. Ho ricevuto il mio medollo spinale da Tasso Kari, mia madre mi ha dato il suo potere Ak. Dunaui ha mascherato i miei due figli, mettendo su me le sue braccia, per sopprimere il male che ha fatto Set, per mascherare ciò che ha fatto contro di me. In questo mio nome di preposto è i segreti sublimi. E qui riprendiamo tutti i miti antichi, dove Set fa pezzi Osiride e Iside va alla ricerca dei vari pezzi di Osiride. Ed è un mito che attraversa tutto l'antico Egitto. Cioè l'essere fatto a pezzi e il ricomporsi è un percorso di stregoneria, un percorso di magia. Perché è vero che noi abbiamo le membra, ma non è alle membra che il discorso egiziano si riferisce. Si riferisce a un corpo luminoso che noi dobbiamo mettere assieme. La ricerca di Iside dei pezzi di Osiride, in cui Osiride è stato fatto a pezzi da Set, non è altro che la stessa ricerca di Demetra di Persefone. In pratica si mettono a posto tutti i pezzi, cioè si affronta la vita, si combattono le contraddizioni della vita e mano a mano che si affrontano queste contraddizioni e che sia la forza di affrontarle, noi non facciamo altro che rimettere a posto i pezzi, i pezzi di noi stessi, i pezzi del nostro corpo luminoso. Nei testi egiziani abbiamo un altro modo per rappresentare il corpo luminoso con cui saliamo verso il cielo ed è la costruzione della barca. Ci sono degli altri testi in cui si dice sei in grado di costruire la tua barca. Hai lo scafo, hai le vele, hai i remi, hai la sessola, hai quello che ti serve per affrontare il viaggio verso l'infinito. Lo hai costruito nel corso della tua vita. Se hai costruito il tuo corpo luminoso puoi librarti con la tua barca verso il sole. Ma se non hai costruito il tuo corpo luminoso tu non potrai farlo. E infatti questo è un po' il senso di quello che avevamo letto nel re defunto vuole in cielo, no? Qualcuno vuola su da mezzo a voi o uomini come fanno le occhi. Egli ha liberato le mani da voi come fa un falco, si è allontanato da voi come fa un nibbio. Ed è questa capacità di liberarsi dai legamenti, questa capacità di dispiegare le ali della vita per vivere oltre la morte del corpo fisico che in fondo è il senso vero delle antiche religioni. E costruire il proprio corpo luminoso significa costruire il proprio cammino verso l'infinito. Questo è stato dimenticato dalle religioni occidentali. Da quando il Pitagorismo elaborò la teoria della metempsicosi, il neoplatonismo, la teoria dell'uno, il cristianesimo, quello che è arrivato prima, lo stoicismo stesso, che praticamente facevano dell'uomo un essere assoggettato, un essere dipendente da qualcuno o da qualcosa, privandoli delle sue capacità di scelta, in realtà ci si è allontanato da quello che è il senso del mito, il senso della vita che costruisce il nostro corpo luminoso, il fatto di pensare che noi non siamo create di immagini e somiglianze a un Dio cretino, ma siamo divenuti nella natura, siamo parte della natura. E in questa natura noi costruiamo le nostre strategie di eternità. E questi testi ce lo dicono, hai costruito il tuo corpo, hai rimesso a posto quello che tu sei? Proviamo ancora. Vittoria del defunto nel tribunale di Osirio. O tu defunto, hai preso il tuo bastone, il tuo fagotto e i tuoi sandali e sei disceso al tribunale per essere proclamato innocente contro i tuoi nemici e le tue nemiche, contro quelli che agiscono contro di te e quelli che agiscono contro di te, insomma contro quelli che potrebbero farti opposizione in tribunale in questo bel giorno. E qui assistiamo alla descrizione invece del morto, del defunto che si presenta al tribunale. In alcune religioni, in alcune formule, il passaggio dalla vita alla morte, cioè la morte al corpo fisico, per far nascere il corpo luminoso, lo si vede come un combattimento. Cioè il defunto praticamente ha come armi tutti gli sforzi e tutta l'esperienza che ha accumulato durante la sua esistenza. Con quegli sforzi, con quelle armi, affronta il passaggio dalla vita alla morte. Praticamente dalla morte del corpo fisico alla vita del corpo luminoso e in quel frangente c'è Ecate ad aspettarlo. In questa visione invece, la vittoria del defunto nel tribunale di Osiri viene assistita il passaggio fra la morte del corpo fisico e la nascita del corpo luminoso come affrontando il consesso degli dèi. Praticamente o tu, defunto, hai preso il tuo bastone, il tuo fagotto e i tuoi sandali e sei disceso al tribunale per essere proclamato. Praticamente tu hai preso il tuo bastone, le tue cose, i tuoi sandali e sei andato là per combattere, sei andato là per trionfare, per chiedere di essere innocente contro i tuoi nemici e le tue nemiche per passare oltre la morte del corpo fisico e tornare nel consesso degli dèi. Passiamo un altro. Il defunto è vittorioso in giudizio. Tu hai preso possesso del cielo, hai ereditato la terra. Chi ti toglierà questo cielo? Tu che sei là, Dio giovane perfetto, tu sei proclamato innocente contro i tuoi nemici e contro le tue nemiche. Dice, sì, tu sei morto, però hai affrontato il tribunale, hai vinto, hai vinto il tuo combattimento e tu hai preso possesso del cielo. Tu che sei nato sulla terra, che hai ereditato la terra nascendo, adesso hai preso possesso del cielo. Ed è questo il trionfo che viene elencato nei testi dei sarcofagi. Troviamo ancora un altro aspetto abbastanza interessante. Appello agli dèi del tribunale postumo. Salute a voi del tribunale degli dèi che dovranno giudicare il defunto su ciò che ha detto. Che era ignorante, che era felice, che non soffriva. Voi che lo circondate, voi che state dietro di lui, che egli sia proclamato innocente davanti a Geber, principe degli dèi, da parte di questo Dio che giudica conformemente a ciò che sa. Allora il defunto si è messo in piedi, la sua piuma sulla testa e la sua figura della dea Mahat davanti a sé. I suoi nemici sono nell'afflizione perché ha ripreso possesso di tutti i suoi beni, essendo stato proclamato innocente. E anche qui il defunto affronta il giudizio. Affronta il giudizio con il suo cuore, con la sua piuma, con la piuma di Mahat viene pesato il suo cuore, viene pesate le sue passioni, vengono pesate le sue emozioni, vengono pesati i suoi sforzi che ha fatto nel corso di tutta la sua vita. E lui, costruendo il corpo luminoso, viene misurato dagli dèi. E la piuma di Mahat, quella che misura il peso del cuore, certifica che lui effettivamente ha accumulato un potere sufficiente. Passiamo ancora ad un altro pezzo. Osiri è aiutato dalle sorelle Isi e Nefti. Ora trappito, ora trappito che dormi, ora trappito in questo luogo che non conosci, conoscilo. Vedi dunque, ti ho trovato sul fianco, tu del tutto inerte. Sorella mia, dice Isi a Nefti, è il nostro fratello. Vieni che gli solleviamo la testa, vieni che raduniamo le sue ossa, vieni che rimettiamo in ordine le parti del suo corpo, vieni che gli facciamo una diga, non resti egli inerte sotto la nostra guardia. Scolavi al liquido che viene da questo defunto, riempi i canali, forma i nomi dei fiumi. O Osiri, vivi, o Osiri, si alzi l'inerte che giasse sul suo fianco. Io sono Isi, io sono Nefti. O Osiri, oro si è rivolto a te, Thoth ti ha protetto. Questi tuoi due figli, possessori della corona bianca. Tu hai imperversato contro chi Seth aveva agito contro di te. Jeb ha visto e l'Eneade ha inteso la tua potenza arriva dal cielo. Il terrore di te pervade gli dèi. Tuo figlio oro ha conquistato la grande corona bianca, che è stata tolta a questo vile Seth, che ha agito contro di te. Vivi, o Osiri, si alza l'inerte che giace sul suo fianco. Io sono Isi, io sono Nefti. In questo noi abbiamo una rappresentazione della vita, dove Osiri è qualsiasi uomo che è aiutato comunque dalla vita, è comunque aiutato dagli dèi contro le contraddizioni della vita stessa. Quelle contraddizioni che può portare Seth anche a distruggere la vita, anche a fare pezzi della vita stessa, ma devi alzarti. E c'è sempre qualcuno che può darti una mano, c'è sempre qualcuno che ricompone le tue ossa, ma sei tu che devi alzarti a combattere e ricomporre te stesso. E questa ricomposizione, ricompattazione, uso della propria volontà per ricucire le parti, lo troviamo proprio come tema ricorrente della mitologia egiziana. Questa necessità di compattarsi, questa necessità di diventare uno, come se alla morte del corpo fisico tutte le nostre parti del corpo si disperdessero e soltanto la volontà, soltanto l'azione di chi ha ancora voglia di affrontare la vita in grado di tenere compatto questo corpo luminoso che altrimenti si disperderebbe. Quanto potere abbiamo acquisito nel corso della nostra esistenza? Quante sfide abbiamo fatto? Quante passioni abbiamo manifestato durante la nostra vita? E il momento della morte del corpo fisico non è altro che la misura di tutto questo. E proprio nei testi dei sarcofagi egiziani noi troviamo appunto questa sensibilità che è fondamentale. Proprio perché quando le persone venivano seppellite, quando le persone morivano la loro vita fisica era finita ma non era finito il loro immenso e il loro immenso lo potevano affrontare con ciò che avevano costruito durante la loro vita, con l'unica ricchezza che avevano messo insieme quando stavano vivendo. Mettere insieme la ricchezza era mettere insieme le sfide della nostra vita. Quel tesoro che abbiamo dentro di noi è che è il frutto di tutte le passioni, di tutti i desideri, di tutte le emozioni che abbiamo vissuto nella nostra vita. E la grande Atena è quella che ci fa vivere le nostre emozioni in maniera strategica, in maniera utile, in maniera produttiva rispetto alla costruzione del nostro corpo luminoso. Un altro pezzo dei sarcofaci dice, il defunto è purificato, oro medesimo ti purifica nel fresco lago a nubi, ti veste con le sue bende migliori, tot purifica per te le belle strade dell'Occidente, duai applica il suo profumo nel tuo interno, ti apre le belle strade della giustificazione, non ti attraversa, e upuat che ti condurrà verso le belle strade dell'Occidente. Si proclama l'Osiri, il defunto, quando lo si vede ritornare dal paese della vita, dall'isola della fiamma, verso i suoi posti della giustificazione è ritornato nel corteo di suo padre Osiri, in pace, in pace. E anche questo è un'altra visione ancora di come gli dèi preparino gli esseri umani. Dice, tu sei morto ma tu hai espresso tutti questi dèi e tutti questi dèi hanno messo forza nel tuo corpo luminoso. Ogni volta che nella tua vita hai manifestato questo o quel Dio, nell'affrontare questo o quella contraddizione, ogni volta che nella tua vita hai affrontato con passioni ciò che ti aspettava, non hai fatto altro che plasmare il tuo corpo luminoso. E si proclama l'Osiri, il defunto, quando lo si vede ritornare dal paese della vita, dall'isola della fiamma, verso i suoi posti della giustificazione, ha ritornato al corteo di suo padre Osiri, ed è in pace, ed è in pace perché quel tipo di contraddizioni che hai vissuto durante la vita fisica, in realtà le hai superate, sei al di fuori. E concludiamo questa carellata con un ultimo testo. Appello agli dèi del grande tribunale del cielo. O membri di questo grande tribunale del cielo, mi avete condotto tra voi, come uno di voi. Io non ho dato agli ignoranti questa formula che io conosco. Pescatori, apritemi i due battenti, dei delle temerici, apritemi le acque esa del grande, che porta l'ala di Hetep, che soddisfa chi è il suo seno. Sono brillanti per me le barche di colui che è approdato, sono larghe per me le strade delle tenebre. Io proteggo il fogliame degli dèi delle temerici, quando esco ricevo il pane bianco. E questo è un appello, è un appello affinché si apre la porta, si apre il passaggio fra la vita fisica e la vita del corpo luminoso. Ed è un appello che viene lanciato agli dèi del grande tribunale del cielo. Pescatori, apritemi i due battenti. Sono brillanti per me le barche di colui che è approdato, sono larghe per me le strade delle tenebre. Cioè non devo incontrare difficoltà, non devo incontrare difficoltà nelle strade che la mia ragione non conosce. E questo è tutto per oggi. Quello che mi interessava con questi testi del sarcofago, farvi capire, è che la questione non è cosa c'è oltre la morte del corpo fisico. La questione è come noi sappiamo vivere per affrontare la morte del corpo fisico. Ed è questo che ci raccontano i testi egiziani dei sarcofaghi. Ci dicono come hai vissuto. Ecco, hai vissuto in questo modo. In questo modo hai affrontato la tua vita. E affrontando la tua vita hai accumulato un tesoro. Quanto sei stato appassionato? Quanto sei riuscito a penetrare le contraddizioni della tua esistente? Quanto hai conosciuto ciò che ti circondava? Quanto hai amato? Quanto hai odianto? Quanto hai affrontato con passione? Hai voluto diventare il padrone delle cose? O eri colui che viveva nelle per le cose? Volevi trasformare il mondo in schiavi? O eri colui che rimuoveva gli ostacoli, che spezzava le membra, affinché nessun legamento fosse imposto alla vita e agli oggetti della vita? Come hai vissuto? Come hai affrontato la tua esistenza? Questo ci dicono i testi del sarcofago. E questo ci tramandano verso l'infinito. Siamo appassionati nell'affrontare la vita. Perché solo in questo modo possiamo costruire un cammino di eternità. Un cammino di eternità che appartiene solo a noi. Bene, io per la trasmissione Magia, Stragonaria e Paganesimo per oggi ho terminato parlando dei testi egiziani relativi ai sarcofagi. Naturalmente ce ne sono altri testi, ci sono altre visioni, ma tratteremo probabilmente una prossima trasmissione quando avrò l'occasione di farla, visto gli impegni di questo momento. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, aprendista stragone, guardiano dell'Anticristo, e che vi sto parlando dei microfoni di Radio Pagana. Vi ricordo che su internet trovate centinaia e centinaia di testi che parlano del paganesimo politista. Ciao a tutti e a risentirci alla prossima trasmissione. Ciao.